Stessa formazione in casa San Giovannese rispetto alla prima uscita, quella della sconfitta con il Poggi Bonzi, il giovane Righeschi davanti ai trequartisti con De Gori e Romanelli pronti ad invertire le due corsie di competenza. Nardoni in regia con Mugelli al suo fianco e in difesa ancora Bega provato insieme a Frio. L'ex Fani con il suo Sansepolcro mette tra i titolari anche gli ultimi arrivati con Iozzia, già visto a Figline, leader difensivo ed un prudente 5-3-2 che vede Moretti e Cappini in riferimenti offensivi. Pronti via e Caldarelli ispira Romanelli abili ad affettare la linea del fuorigioco di ospite a presentarsi davanti a Becci, finta riuscita e l'attaccante esterno azzurro deposita in rete e a porta vuota sarà l'unico gol della partita. Poco dopo Caldarelli dalla lunga distanza risponde infatti un destro troppo centrale per impensierire lo stesso estremo ospite. Sortita quindi del Vivi Alto Tevere attorno al quarto d'ora, lancio di Angiolucci per Moretti, il diagonale neutralizzato con respinta da Muscas. Una prima frazione dal ritmo altissimo per il precampionato si chiude quindi con il calcio piazzato di Chiasserini che si esaurisce prima del montante di destra della Porta Azzurra. Pronti via nella ripresa caratterizzata dalla rivoluzione delle classiche sostituzioni e sulla respinta difensiva di Muscas il neo entrato biturgenza e panichi cicca la conclusione trovando solo un corner. Risale il ritmo del marzocco che stringe alle cordi bianconeri, Caldarelli non trova lo specchio, un minuto numero 8 dal limite. Subito dopo non funziona l'offside e Muscas ancora è chiamato a dire no a Garini. La gara resta in bilico e quindi Becci imita il rivale mettendo in corner la conclusione di De Gori. Scorrono i minuti di qui al novantesimo con poco altro da segnalare vince la Sangio che sicuramente merita anche un voto superiore ai rivali per il match.